Stiamo facendo un buon lavoro con la raccolta differenziata, già nella zona 1, zona 2 e zona 3 abbiamo avuto una bella percentuale di raccolta differenziata e la nostra città può dire che ha già superato il 30% di raccolta differenziata. E' un bellissimo risultato che naturalmente sarà ancora migliore quando entreranno in funzione anche la zona 4, la zona 5 e la zona 6. Devo chiedere un aiuto ai miei concittadini, collaborare con l'amministrazione comunale e con la stessa ditta rispettando il calendario che è stato diffuso ma anche segnalando all'amministrazione comunale eventuali disservizi. Abbiamo motivo di ritenere che non in tutte le zone il servizio da parte della ditta è reso in maniera efficiente. E quindi abbiamo bisogno anche di sapere da parte dei cittadini che cosa non va in quella particolare zona, in quella particolare strada. Questo per segnalare alla ditta la necessità di migliorare il servizio ma anche eventualmente per i casi più gravi per addebitare alla ditta tutto ciò che non è stato reso come lavoro.